Chiediamo l'assunzione diretta, chiediamo le priorità per quanto riguarda le nuove missioni in ruolo che stanno previste per il prossimo luglio 2024. Siamo qui, oggi in rappresentanza, sono qui con le mie colleghe, siamo in tre, ma in realtà siamo 536 persone in graduatoria. Noi siamo a Exidonia Infanzia 2016, siamo state scavalcate da un concorso straordinario del 2018, siamo state messe in coda a questo concorso. Aspettiamo il nostro turno pazientemente da sette lunghi anni, adesso è arrivato il nostro turno, ci sentiamo minacciate da questo nuovo concorso che è alle porte, che sta per uscire. Per cui chiediamo al governo di ascoltare quelle che sono le nostre richieste, siamo madri, siamo donne, siamo padri, genitori che abbiamo comunque lottato, fatto sacrificio e ci portiamo alle spalle speranze e tante delusioni. Vogliamo l'immissione diretta, vogliamo la priorità e questo è quello che oggi veniamo a chiedere qui. Perché dal suo punto di vista tutto questo mondo scolastico e dell'immissione a ruolo è così complicato? Perché è una bella domanda, questo io non lo so, è una bella matassa che non tocca a noi andare a dipanare ma è il governo, è chi l'ha creata questa matassa. Noi non possiamo ancora piangere le conseguenze. Io personalmente ho fatto almeno cinque concorsi nella mia vita e adesso sono stanca di andare ad affrontare un'altra prova per cui saremmo sempre le stesse persone a fare sempre le stesse prove. Si studia per migliorare, non per ripetere sempre le stesse cose, gli stessi argomenti. Prossime mosse da parte vostra, qualche mobilitazione, qualche sciopero o è soltanto una richiesta la vostra? Si vedrà, dobbiamo vedere quelle che sono le decisioni che vengono dall'alto. Siamo fiduciose comunque che queste decisioni siano positive a favore nostro. Poi si vedrà.